Archiviata la Leopolda, per Renzi arrivano gli affondi dei concorrenti per la segreteria del PD. Non ho capito che tipo di partito abbia in testa, vedo solo una persona protagonista, dice Cuperlo, criticando ancora la scelta del sindaco di Firenze di tenere fuori dalla Kermess simboli e bandiere democratici. È giusto puntare ai voti dei 5 stelle del PDL, continua, ma prima riprendiamoci i nostri, devi dire chi sei, chi rappresenti, il partito è da riformare e rifondare, ma non si può ridurre a un comitato elettorale. E per Renzi arrivano anche le bordate del vice ministro Fassina. La sua è un'operazione ambigua e sulla legge di stabilità le proposte sono pari a zero, solo propaganda, dica come si tagliano 20 miliardi di cuneo fiscale, con quali coperture incalza. E a incalzare Renzi è anche Nichi Rendola. Il leader di sella apprezza il mai più larghe intese, pronunciato dal rottamatore, ma lo invita a essere conseguente da subito. Renzi attacca, non dimentichi che ci sono cose antiche, che vanno nominate con parole antiche, povertà e disoccupazione vanno combattute radicalmente.